e siamo in diretta siamo tornati in diretta anche quest'oggi in questo fantastico lunedì lunedì 11 maggio appena trascorsa è passata la festa della mamma quindi facciamo l'augurio a tutte le mamme che sono collegate con noi a fai la tua parte la voce quella di roberto leone e oggi abbiamo delle belle sorprese delle belle anche novità da scusate da raccontarvi ospite con noi ospite fisso ormai è il nostro carissimo vito losito ciao vito come stai ciao ciao roberto ciao a tutti è sempre bene speriamo sempre al meglio oltretutto sempre in casa rinchiusi usciamo giusto per il necessario senza badare che è per il superfluo in modo che riusciamo a coprirci ancora a immunizzarci da questa brutta pandemia perfetto 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 grande vito losito come sempre sintetico ma giusto in quello che che ci dice e salutiamo anche roberta genghi ciao roberta come stai ciao ciao grazie tutto bene tutto tutto bene grazie per l'invito allora dopo dopo spieghiamo anche perché tu sei qui e in rappresentanza di cosa sei qui lo spieghiamo subito dopo mentre salutiamo anche gianni di filippo ciao gianni come stai benissimo buonasera a tutti grazie allora 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 abbiamo tante cose da raccontare naturalmente andiamo in in ordine di di galanteria quindi facciamo parlare prima la nostra roberta genghi che è collegata con noi direttamente da radio futura che tra l'altro salutiamo gli amici di radio futura perché siamo dovremmo essere in cross posting anche con loro quindi dovremmo essere in diretta anche sul su su radio futura quindi fateci sapere sulla pagina facebook di radio futura fateci sapere se si sente tutto bene se il collegamento è giusto anche perché facebook ha deciso proprio oggi di cambiare le sue direttive i suoi metodi di di poter fare la diretta quindi noi siamo felici grazie facebook ancora una volta per il supporto che ci dai ecco fatto allora roberta chi sei cosa fai nella vita cosa fai a radio futura soprattutto sì allora io sono un'imprenditrice a una piccola azienda agroalimentare e da invece un anno collaboro con radio futura e ho quindi ripreso una mia vecchia grande passione che è quella della radio perché prima diciamo che lo facevo più o meno di professione e quindi da un anno collaboro con radio futura e con su questa radio faccio un programma dedicato proprio proprio alle eccellenze dell'agroalimentare eccellenze gastronomica del nostro territorio che si chiama circoli virtuosi e poi durante diciamo questa quarantena in realtà ho dato il mio piccolo contributo insieme a francesco ventura che è un po un volto abbastanza noto di radio futura e abbiamo messo su un programma dedicato proprio per diciamo raccontare questo periodo così particolare che stiamo vivendo da due mesi a questa parte perfetto 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 poi parleremo anche di tutto quello che sta facendo radio futura vi ricordiamo radio futura per chi non lo sapesse ma sono in pochi è una stazione radiofonica di acqua viva delle fonti quindi anche molto conosciuta e molto apprezzata sul territorio e a breve ci saranno anche altre novità delle quali poi magari ne parliamo nel corso della puntata vi ricordo che all'interno della puntata ci sarà anche pino greco responsabile di cassano on air altra radio che è nata a cassano in un po di tempo fa quindi però adesso abbiamo anche gianni di filippo gianni di filippo raccontaci prima chi sei cosa fai nella vita e poi parliamo di questo progetto di questo portale che si chiama il san termano ok vai gianni sì buonasera niente devo dire che in questo periodo sono proprio preso a dare tutto me stesso a questa a questa iniziativa che non ha sicuramente una priorità lucrativa ma serve un po a dare una mano a tutto il territorio cioè voglio specificare che cos'è questo portale da cos'è nato da quali di è un lavoro che è durato circa un anno è diciamo voluto mettere in bella quelle che possono essere diciamo quali che possono essere dei miei pensieri sul discorso della promozione territoriale quanto questa sia importante no è legata anche agli aspetti diciamo di ripercussione positiva economica che può avere il san termano il san termano non è la raccolta no quasi in forma enciclopedica di vari aspetti del paese parliamo di aspetti storici di tradizioni parliamo di prodotti locali quindi eccellenze locali soprattutto parliamo del mondo del terzo settore quindi delle associazioni e di quanto sia importante legare il mondo delle associazioni anche con il mondo diciamo imprenditoriale quindi ho voluto mettere in bella quelle che sono dei miei pensieri ma in realtà no il san termano non è altro che una comunità sono dei pensieri che sicuramente vengono condivisi dalla stragrande maggioranza delle persone che amano proprio il loro territorio anche vito diciamo che è impegnatissimo anche con le associazioni con il mondo delle associazioni ha avuto modo di prendere atto durante una conferenza di che cosa è il san termano di quale spirito a quindi si tratta di raccogliere tutte le informazioni che possono diciamo promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di santeramo la promozione la valorizzazione di tutte le peculiarità del territorio quindi dalla capacità recettiva in effetti noi all'interno del portale abbiamo censito tutti gli hotel quindi con una capacità di circa 400 posti letto abbiamo censito tutti gli ambienti ristorativi no dai bar fino alle rosticcerie e sapete benissimo come santeramo sia importante anche sotto questo aspetto culinario c'è la carne la carne al rosto quindi siamo convinti che insistere no su questi temi significa avere quasi una strategia territoriale che mette insieme sia le associazioni sia le attività commerciali e i cittadini e sicuramente anche le varie amministrazioni che si sottoseguono tutti quanti debbano avere un unico obiettivo quello di promuovere il territorio perché promuovendo il territorio nei vari aspetti no quindi culturali tradizionali territoriali no si incide sulla capacità di attrazione anche turistica e quindi con delle ripercussioni no sulla capacità di sviluppare pil no prodotto interno come si suol dire questo diciamo è quello che in questo momento stiamo valorizzando e speriamo che venga compreso non solo a livello locale ma anche a livello territoriale e questa è una cosa molto importante di solito una cosa molto difficile il cercare di far capire alla gente soprattutto che è la form la formula che state usando una formula totalmente gratuita lo vogliamo ricordare cioè voi non avete il santermano come portale non ha nessunissimo scopo di lucro giusto no il la la filosofia è questa qua che rendendo ricco un territorio diciamo che la ricchezza deve colpire tutti quanti no quindi non non c'è un'entità che deve diciamo avere una rendita o certo se ci si deve guadagnare si deve devono guadagnare tutti per questo si insiste anche nel non so se avete visto un'ultima iniziativa che stavamo promuovendo in maniera gratuita anche eh le aziende no affinché loro ricavino dell'economia per meglio supportare anche il mondo associativo cioè se un'associazione diciamo eh sviluppa azioni sul territorio no faccio un esempio no Altamura del Federicus che durante quei tre giorni eh 300 mila persone fanno fare il pil di tutto il mese di un mese di pil no quindi quanto è importante che tutto il mondo associazionistico non in maniera individuale abbino un unico obiettivo quello di fare delle azioni sul territorio e quindi le aziende se diciamo eh si fanno queste azioni la promozione sviluppa pil quindi anche nel loro interesse per questo diciamo la formula l'algoritmo è uno solo mettere insieme le il mondo delle associazioni con il mondo delle imprese con le amministrazioni con i cittadini che debbano pronto ho perso l'audio di eh eh ok adesso teori teori comune ripeti scusami Gianni ripetimi l'ultimo concetto l'ultima frase perché non eh ti avevamo perso un attimo sì eh a che punto cioè mi avete perso eh quando stavi parlando appunto del di Federicus se ci riprendi cioè appunto voglio dire eh l'azione che può avere l'azione di promozione che possono avere anche tutto il mondo associazionistico non a livello solo individuale o grossi associazioni noi a Santermo contiamo più di 80 associazioni tra associazioni diciamo culturali e associazioni sportive eccetera eccetera se tutto questo gruppo no eh viene coordinato no e quindi si ha un unico obiettivo che è quello della promozione no del territorio questo ha delle ripercussioni sull'aspetto economico e ho fatto l'esempio di Altamura con il Federicus che durante quei tre giorni eh porta oltre 300.000 presente quindi capacità di spesa e il vantaggio non è solo per chi ha fatto il Federicus cioè per le associazioni eccetera il vantaggio è anche per le imprese quindi se le imprese capiscono questo possono meglio anche supportare il mondo delle associazioni perché si sa che anche le associazioni hanno bisogno malgrado siano eh dei volontari no hanno bisogno di sussistenza di risorse e che tante volte anche le forze di un'amministrazione comunale non può sostenere perché sono tante no quindi diciamo l'interesse deve essere comune se poi a questo aggiungiamo che sponsorizzando le aziende locali le si invitano i cittadini a spendere meno per quanto riguarda l'acquisto online su Amazon scusate se faccio dei nomi e più l'acquisto verso le attività commerciali locali questo diciamo mette in in circolazione appunto scusate il gioco di parola un circuito virtuoso che si ripercuote poi favorevolmente su tutto il territorio e di questo diciamo è la filosofia che è insita all'interno del portale di Sant'Ermano quindi partiamo dalla dalla storia del paese dalle tradizioni dalle poesie in vernacolo dagli artisti locali da tutte quelle che sono diciamo le attrazioni dal punto di vista territoriale non solo diciamo come come palazzi e monumenti ma anche territoriali no le quite piuttosto che i tratturi eccetera eccetera cioè è un'esplorazione è un lavoro che è durato un anno dove diciamo si è trattato di tutto di più ehm tra associazioni mondo della scuola mondo delle imprese e cittadini quindi il Sant'Ermano in realtà non è Gianni di Filippo il Sant'Ermano siamo tutti noi sono gruppi e singoli che si uniscono per migliorare il territorio questa è l'idea perfetto perfetto hai reso benissimo l'idea Vito penso che anche tu ha si è riuscito a capire come me e Roberta l'importanza di questo di questa iniziativa salutiamo a Narita Lorusso che ci sta ascoltando ma tutti quelli che ci stanno ascoltando anzi diteci come sta andando l'audio in questo momento perché non vorremmo avere problemi di audio salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando da Cassano dalla pagina di Cassano Neir e anche dalla pagina di Radio Futura della quale abbiamo ospite Roberta Genghi ciao allora Roberta hai ascoltato questa questa iniziativa da parte di questo cittadino Sant'Ermano perché poi alla fine è un libero cittadino che ha aperto questa iniziativa quindi questa pagina Facebook in realtà è un portale vero perché a questa pagina Facebook è legato un sito all'interno del quale c'è tanta tanta di quella roba salutiamo anche gli amici di Radio Futura che ci hanno appena risposto in chat quindi se c'è qualche domanda anche dalla pagina di Radio Futura fatela pure noi risponderemo volentieri in realtà è un è un è un insieme di tante cose perché se uno prova a fare un viaggio all'interno di questo portale trova delle sezioni dove ci sono delle mostre d'arte delle sezioni dove ci sono tante tante piccole particolarità le poesie con la voce del maestro Leone per esempio molto molto belle insomma è arte cultura e commercio a 360 gradi in pratica questo questo portale cosa ne pensi Roberta cosa potrebbe 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 essere interessante vedete adesso la cosa che mi viene in mente potrebbe essere interessante creare un portale tipo che si possa chiamare l'acqua vivese come non mi ricordo come si chiamano i cittadini l'acqua vivese si chiama proprio acqua vivese sì 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 allora il senso cioè diciamo è quello un po di tutto diciamo che un po tutte le scusate sento un po di ritardo sì sì no vai vai tranquilla vai tranquilla noi ti sentiamo ok ok il senso di tutte queste iniziative secondo me è venuto ancora più fuori durante questi due mesi di di lockdown di quarantena e un po credo che il messaggio sia arrivato ci sono diverse iniziative quindi dalla dall'emittente alle pagine ai social il senso è sempre quello promuovere il locale mai come adesso è fondamentale puntare appunto a creare alimentare in tutti i modi circoli virtuosi e prima appunto è stato citato l'espressione circoli virtuosi è proprio anche per esempio il titolo del nostro del programma che io conduco con michele sozio che è un amico dottore nutrizionista e noi praticamente cerchiamo di fare quello quindi accendere ancora una volta i riflettori in questo caso sulle eccellenze enogastronomiche soprattutto perché abbiamo un territorio che è ricco di prodotti e produttori eccellenti mi sentite sì 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 noi ti sentiamo benissimo ok perfetto ok perfetto finalmente ok non ho più il ritorno perché era un po sgradevole ok quindi dicevo proprio con circoli virtuosi praticamente cerchiamo di fare un po quello che fa il center mano tra l'altro adesso stavo dando proprio un'occhiata e quindi cerchiamo proprio di alimentare dei circoli tra virgolette virtuosi è successo infatti che per esempio da una semplice puntata radiofonica poi sono siano nate delle collaborazioni poi reali per esempio tra produttori che si sono messi insieme perché dobbiamo immaginare appunto il mondo dei produttori adesso sto entrando un po nel dettaglio per quanto riguarda il settore dell'agroalimentare però è fatto è praticamente una filiera quindi ciascuna ciascun prodotto fa parte di questa filiera e ognuno è un piccolo tassello se noi riusciamo diciamo a mettere insieme i vari tasselli creiamo una bella rete virtuosa quindi anziché per esempio andare diciamo a prendere le materie prime dall'estero possiamo restare nel nostro paese ancora di più possiamo restare nella nostra regione e quindi siamo tutti contenti questa è la morale tutte queste iniziative servono sicuramente ad alimentare il senso di comunità che è quello che un po è venuto fuori anche durante i nostri programmi per esempio vedo che lo spirito è quello anche noi su acqua viva abbiamo una situazione un po diversa si chiama accoglio a partecipa che è un gruppo facebook un gruppo chiuso a cui corrisponde anche un diciamo un sito di informazione appunto locale quindi insomma poi vedo che siamo più o meno le iniziative sono quelle possiamo fare il nome del sito di informazione locale perché fare pubblicità non è una cosa carina si chiama proprio si chiama si chiama si chiama a cui partecipa quindi è un gruppo è un gruppo su facebook di di confronto e poi nasce come gruppo facebook poi a questo in seguito è corrisposto a una pagina proprio di informazione quindi è un sito a tutti gli effetti di informazione locale dove vengono pubblicati vari approfondimenti dalla politica piuttosto che al mondo dell'associazionismo e quant'altro allora grazie le cose tante belle cose ma noi ma noi abbiamo voluto chiamare questo questa trasmissione tu lo sai bene caro vito fai la tua parte appunto perché volevamo mettere in risalto proprio quelle persone quelle quegli enti che in questo momento in maniera reale stanno facendo la loro parte quindi anche questi queste persone di acqua viva poi magari ce lo ricordi dopo e ci ricordi anche il nome della pagina roberta nel frattempo io saluto anna ritalo russo e alessio pinto che ci stanno ascoltando che saranno partecipi con me della puntata di mercoledì dove ci saranno anche tante belle novità ve lo dico sin da adesso avremo un regista perché ci sono stati appunto i dei premi che sono stati assegnati nella settimana scorsa e sarà sergio recchia il regista che sarà ai nostri microfoni in più siccome con alessio parliamo di quel mondo che non viene mai come ti posso dire mai commentato da nessuno quindi dal mondo dell'animazione turistica che purtroppo a previsione di molti farà tanti orfani tra i lavoratori quest'anno perché la si vede veramente difficile avremo un un organizzatore di eventi con noi adesso non ricordo il nome se poi alessio me lo puoi ricordare in chat mi fai un favore che è stato intervistato anche su varie pagine di giornali ha detto il suo parere su un determinato modo di fare l'animazione in realtà noi siamo anche un una stazione radiofonica quindi vorremmo mandare anche della buona musica e abbiamo chiesto appunto ai nostri ospiti di dirci quale di una canzone da mettere in scaletta ecco la prima canzone che mettiamo in scaletta è una canzone di giorgio gaber che è stata scelta se non ricordo male proprio dal nostro gianni di il san termano giusto sì sì allora gianni perché questa canzone di giorgio gaber e quale canzone hai scelto di giorgio gaber soprattutto proprio in questo periodo che ci sentiamo un po chiusi il concetto di libertà mi è sembrato che potesse dare diciamo e potesse andare incontro a quelle che è il maggior desiderio di ogni persona che si sente un po rinchiuso quindi libertà significa non solo diciamo il senso stretto della parola ma anche un senso interiore di sentirsi veramente liberi anche stando in questa condizione quindi una fantastica canzone di giorgio gaber va adesso in diretta naturalmente ricordiamo agli amici di di facebook e di youtube che per siccome noi vogliamo rimanere digi a quelle che sono le regole condivise o no di di queste piattaforme non possiamo per la regola sul copyright mandare le canzoni in diretta sulle due piattaforme in realtà avrete qualche momento di silenzio però per tutti quelli che ci stanno ascoltando da noi vi inseriamo comunque un link perché magari ve la volete andare ad ascoltare per i fatti vostri siete liberissimi di farlo ve lo inseriamo nella nostra chat il link e non non è un una disfunzione audio quella che sentite quando sentirete il silenzio ma in realtà è perché non possiamo mandare in onda le canzoni su facebook e su youtube perché vi ricordo che siamo in diretta anche su youtube io nel frattempo saluto e libero l'amico gianni di filippo del san termano che c'è a cui abbiamo piacevolmente dato spazio per appunto parlare di questa partecipazione facebook come qualcuno mi sta suggerendo adesso nelle chat quindi con il san termano vi ricordo andate a vedere il suo gruppo ma soprattutto c'è anche un sito internet molto interessante legato a quel gruppo e nel frattempo noi vi facciamo ascoltare proprio la canzone che ha scelto lui una canzone di giorgio gaber libertà quindi per voi giorgio gaber con questa splendida 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 canzone grazie a tutti 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 Il tempo è arrivato, però ve lo presentiamo dopo, ve lo lasciamo come dulcis in fundo praticamente, quindi ve lo presentiamo tra un attimo in realtà. Vito, più che altro io so che tu sei impegnato in questo momento e ti tocca lavorare a te invece, so che devi andare fra un po', giusto Vito? Beh sì, insomma, mi dispiace parecchio, ma bisogna il lavoro in comb, bisogna andare anche dietro a tutto il mondo che ci corre appresso. Certo, certo, certo. Allora, io ringrazio Vito Losito naturalmente che ha gentilmente prestato anche lui la sua parte anche per oggi, però Vito ci teneva a salutare un altro amico che è Pino Greco di Cassano Neir. Ciao Pino, come stai? Ciao, buonasera. Ciao Pino. Ciao, buonasera. Stiamo venendo, dai, venendo, sperando che questo periodo termini e che possiamo riprendere a pieno tutte le nostre attività. Allora, io vi ricordo che nel frattempo siamo online, dovremmo essere online, adesso non lo so per certo perché è un mondo nuovo anche per me quello di Facebook, dovremmo essere online sia sulla pagina di Radio Futura che sulla pagina di Cassano Neir. Me lo confermi questo, Pino? Credo di sì, in questo momento sto, come dire, ho appena terminato il lavoro, mi sono lanciato il lavoro. Ok, ok, non appena te lo confermano, confermacelo, così siamo tutti quanti più felici e invitiamo anche gli amici di Cassano Neir naturalmente a fare le loro domande e la loro parte anche. E la loro parte anche, giustamente. Allora, noi salutiamo Vito Losito, Vito puoi chiudere quando vuoi, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Da Radio Futura ci confermano che siamo online anche su Cassano Neir, penso di sì. Ah, perfetto. Quindi grazie mille agli amici di Radio Futura che ci stanno supportando anche in questo, sono preziosissimi. E sono i nostri colleghi anche su questo. E in realtà, lo vogliamo dire, sta nascendo, non spoileriamo niente di particolare, però sta cominciando a nascere una collaborazione tra le nostre, almeno tra le nostre tre emittenti, quindi Radio Swing Set, Cassano Neir e Radio Futura. Sta nascendo questa piccola sinergia che dobbiamo ringraziare, visto che c'è anche qui Vito Losito che ci ha messo in contatto l'uno con l'altro, poi da cosa nasce cosa naturalmente. A breve avrete degli aggiornamenti. A breve vediamo. Se mi consenti, giusto un attimo Roberto, volevo un po' visto, sentito quello che abbiamo detto fino a poco tempo fa, poi vi saluto appunto con un pensiero che è il concetto appunto di associazionismo che sto vedendo in maniera del tutto volontaria. Un atteggiamento volontaristico verso le associazioni purtroppo è così ed è la base. Mi fa piacere perché vedo che cresce sempre di più la volontà e la voglia di mettersi in rete. Ho sentito prima Roberta, Roberta con Acquaviva partecipa, è una bella iniziativa. So di un'altra iniziativa, Acquaviva Viva, che è tipo la vostra, non Roberta? Tipo Acquaviva partecipa, anche. Io vi dico appunto, siccome collaboro con la nostra associazione di confesercenti, collaboro sia su Acquaviva che su Cassano, quindi ho modo attraverso i distretti urbani del commercio di sapere anche le situazioni, vivo sia Cassano che Acquaviva. Mi fa piacere, mi fa piacere perché poi, non so se sapete, se avete seguito le puntate, abbiamo avuto anche ospiti i vostri due sindaci, sia la Di Medio che Carlucci, contentissimi appunto perché in questo periodo c'è stata una brutta situazione del nostro mondo nella pandemia. Però visto che proprio nel momento del bisogno c'è stata tanta partecipazione, tanta voglia di mettersi in rete, e Gianni lo stesso prima diceva con quella bella iniziativa del Sant'Irmano che è proprio quello che ci vuole, quello che ci deve portare anche alla scoperta di tutti quanti noi messi insieme, che non mi stancherò mai di dirlo, che da soli siamo sempre delle persone appunto senza quasi un obiettivo, una meta, ma in rete possiamo davvero conquistare il mondo. Niente, è così, quindi stiamo bene insieme, aiutiamoci e continuiamo su questa strada che è la mentalità vincente. Allora, nel frattempo, Vito, ti interrompo un attimo perché mi permetto di salutare anche Rossella Rella che ci ha salutato tramite la chat e mi permetto di salutare anche tutti quelli che si stanno collegando in questo momento alla nostra trasmissione, oltre che dal portale Il Sant'Irmano, ma anche da 6 di Santerra Mosè, quindi salutiamo anche loro, siamo su 4, 5, 6 piattaforme, adesso non mi ricordo contemporaneamente, in più abbiamo YouTube, il nostro canale YouTube, le nostre applicazioni, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, perché giusto che sia, se non ci fossero loro, noi non avremmo ragione di essere da quest'altro lato. Vito, scusa, mi concludi? No, niente, dicevo appunto, è questo che hai detto anche tu ora, che siamo in onda su diverse situazioni, e questo è sempre in rete, la rete che ci unisce e non dobbiamo essere invidiosi l'uno dell'altro, perché come diceva anche Gianni prima, mi è piaciuto proprio un passaggio, è che tutti quanti insieme facciamo bene al singolo, quindi è questo il passaggio importante. Esatto. Allora salutiamo Vito Losito, salutiamo Vito Losito che come sempre è stato... Bene, mi piace anche questa associazione che abbiamo preso spunto da qualsiasi altra forma di rete, e mi fa piacere che state andando avanti bene. Stiamo cercando di cominciare, nascerà qualcosa di sicuramente positivo. Crescerà e mi farà molto piacere. Allora, grazie Vito. Grazie a tutti. Grazie Vito. Ciao Pico, ti abbraccio. Ciao Roberto, poi ci sentiamo. Buona continuazione e buona serata a tutti. Ciao, ciao Vito. Ciao. Allora, chiudi quando vuoi Vito e non ti preoccupare. Allora, prima di lasciare spazio naturalmente a Roberta, che ci dirà, farà un piccolo approfondimento su tutto quello che è stato il palinsesto di Radio Futura, in modo da poter rendere partecipi anche magari le persone che non sono proprio vicine a questa stazione radiofonica, che però potrebbero interessarsi. E tutto quello che è stato fatto all'interno del loro palinsesto, appunto in questo periodo di coronavirus, vorrei chiedere a Pino di presentarci il progetto Casano Neir. Se per te va bene Roberta, eh? Certamente, certamente. Vai Pino. Allora, Casano Neir nasce perché? Nasce, è nata più che altro, è neonata. Non siamo, non abbiamo grosse esperienze di radio, ci siamo illustrati, come dire, nell'esigenza. È partita con la crisi del Covid-19 per tenere, come dire, vicino alla cittadinanza in un certo senso, tenere i rapporti perché giustamente tutti a casa, nessuno per strada, si erano, cioè, i rapporti naturalmente umani si logorano in questa maniera. Era per stare un po' vicini l'uno agli altri. È nata per gioco, nel vero senso della parola, sull'esigenza dell'emergenza, ma anche per cercare di dare un po' di informazione. In effetti è quello che abbiamo cercato di fare come palinsesto. Non è che abbiamo avuto una grossa struttura, ma ci sono stati diversi amici che si sono messi a disposizione, chi per ricette culinarie, che si è andate a sfogliare la nostra pagina, vedrete che ce ne sono diverse, o attività ginniche, suggerimenti estetici. Abbiamo svariato, nel vero senso della parola, dagli argomenti più importanti a qualcosa di più leggero, nel vero senso della parola, proprio per restare uniti e per comunque sia raffrontarci anche nella comunicazione. Abbiamo cominciato ad affrontare anche qualche tema un pochettino più scottante, che non è solamente relegato all'emergenza che stiamo vivendo, quali sono i problemi del centro storico, e dalla quale poi naturalmente è scapulita l'esigenza anche di lanciare un'altra progettualità. Progetto nel progetto, potreste dire voi. Noi siamo fatti così, alla fin fine. In che senso? Lanciare una progettazione partecipata e condivisa con la cittadinanza di Cassano, che, detto francamente, se dovesse andare a buon fine anche il nostro rapporto, nel senso di condivisione anche delle piattaforme, dei temi, dei palenzesti, potrebbe, perché non essere una partecipazione, come dire, territoriale. Domani potremmo anche pensare di fare progettazione assieme. Beh, certo. Questa è la nostra idea di radio, più che di radio, di comunicazione, direi, perché sembrerebbe obsoleta lo strumento radio, in un certo senso. Beh, in realtà, in realtà ti posso dire che non è mai stato attuale come nell'ultimo periodo, perché... Sì, sì, su questo ti do ragione. Come sempre, hai servito a supportare tutti quegli altri strumenti che si ritengono un po' più importanti della radio. In realtà la radio ha sempre fatto la sua parte di... è un gioco di parole, scusate per il titolo della trasmissione, cioè fai la tua parte. Ha fatto la sua parte, appunto, come posso dire, supportando tutte quelle che sono gli altri mass media, che sono quelli un po' più grandicelli, vogliamo dire, anche se la radio è fra i più vecchi, fra i più anziani. Ecco. Naturalmente nasce quest'idea, in effetti stiamo cercando di mettere su questo progetto di collaborazione tra Radio Futura, Radio Swing Set e Cassano Neir, appunto per quell'idea di, come posso dire, condivisione, appunto, come diceva il nostro pino greco Pocanzi. E, naturalmente, è normale che in questo momento, se la gente è a casa, magari, voi non è che avete fatto qualcosa di sbagliato, o qualcosa di meno importante, perché in realtà il momento di leggerezza era proprio quello che serviva in questo momento a quelle persone che erano a casa e che magari si annoiavano, anche di ascoltare sempre e solo notizie pesanti e tragiche sul coronavirus. Abbiamo fatto anche qualcosa di molto leggero. E, infatti, penso che sia stato molto utile anche quello, piuttosto che no. Ma certo, di tenersi compagnia anche certe volte, che può supportare questo strumento. E' sempre stata l'idea, la nostra idea di radio, quella di tenere compagnia. Allora, torniamo da Roberta di Radio Futura. Roberta, io mi sono permesso di darti del tu, scusami, ma... Ma ci mancherebbe, ma assolutamente. Non ti avevo chiesto se potevo farlo, ecco, solo per questo. Allora, Roberta, assolutamente sì. Parliamo un po' anche del palinsesso, abbiamo capito cosa sta facendo Cassano Neir. In questo momento mi sembra una cosa veramente molto importante questa. Tra l'altro, dopo chiederò a Pino, c'è un altro progetto fatto da degli studenti, sempre di Cassano, sempre sullo stile TV, radio, roba del genere. Poi me ne parli, Pino, o no? Dovrebbe essere del liceo scientifico. Ok, poi ne parliamo dopo, ne parliamo però. Sì, non si so. Roberta, parlami un po' di quello che ha fatto Radio Futura in questo periodo. Entriamo un po' più nel dettaglio su quella che è la programmazione di Radio Futura è stata e è la programmazione di Radio Futura in questo periodo. Sì, allora, solo una parentesi su quello che è stato detto prima, appunto, sull'importanza del senso di comunità. Dobbiamo dire che davvero in questi due mesi, mi preme dirlo, anche a livello soprattutto, insomma, acquavivese, io parlo di quello che vedo e ho vissuto, è davvero venuto fuori il senso di comunità in diverse occasioni, quindi sempre tornando alla parola chiave della rete, è stata messa su una rete che ha supportato, bisogna dire grazie davvero a tutti i volontari che ha supportato soprattutto le persone anche più in, diciamo, condizioni di svantaggio e quindi noi abbiamo l'emporio sociale che è stato inaugurato da poco e quindi sempre per tornare a quel discorso così come ci sono state anche tante altre iniziative di commercianti che si sono messe insieme per una volta hanno deciso di mettere da parte le varie divisioni e si sono messe insieme e si sono unite, ci sono state diverse occasioni anche delle app, per esempio, dei ragazzi hanno da poco presentato un'applicazione che serve proprio a mettere insieme i vari commercianti, le varie imprese acquavivesi, insomma, si va nella direzione della rete, della comunità. sempre lungo questa direzione è andata anche Radio Futura New Generation diciamo che noi ci siamo innanzitutto dobbiamo dire una cosa che la maggior parte dei programmi di Radio Futura del palinsesto di Radio Futura New Generation sono programmi che vengono fatti in studio per cui diciamo che la cosa molto bella della radio è anche questo cioè stare in studio guardare quella lucina magica che si accende che ti dice che sei on air interagire con la regia si crea tutta una situazione che diciamo ovviamente perde un po' quel fascino se lo fai da casa però in qualche modo bisogna adattarsi Radio Futura si è fermata giusto pochissimi giorni dopo praticamente il decreto dei primi giorni di marzo che ha dichiarato zona rossa in Italia quindi quando praticamente siamo entrati nel lockdown penso l'abbia fatto anche per organizzare riorganizzare il palinsesto riorganizzare riorganizzare tutto come abbiamo dovuto fare tutti quanti noi fare tutti anche noi abbiamo avuto qualche giorno di stop per poi partire quindi è onore al merito alle persone a tutti coloro che lavorano in Radio Futura per questa cosa perché io sulla mia pelle lo so quanto è stato difficile passare dallo studio a casa quindi capisco quali sono state le difficoltà e faccio un plauso per tutto quello che in questo momento sta continuando a fare Radio Futura per la città di Acquaviva delle Fonti e per tutti coloro che l'ascoltano naturalmente certo e quindi infatti appunto dicevo giusto ci sono stati quei giorni più che altro per capire cosa potevamo fare quindi siamo stati un po' fermi poi però abbiamo sentito diciamo forte la necessità di continuare ad offrire un servizio perché alla fine le radio locali fanno proprio quello offrono un servizio alla comunità e abbiamo voluto proprio continuare per dare proprio un senso di continuità e di comunità e quindi ci siamo praticamente reinventati alcuni programmi che erano già registrati quindi programmi che normalmente vengono registrati hanno continuato ad andare in onda e quindi dalla musica allo sport c'è nomino qualche programma 100% Bari che è un programma di approfondimento appunto sul calcio o Bazzonair che è un programma dedicato alla squadra di basket di Acquaviva e poi anche i programmi musicali quindi c'è Dark Side che è un programma a cura di Marco Antonelli o We Believe in Music che è un programma sugli artisti emergenti locali e nazionali poi però abbiamo pensato soprattutto di creare un format che potesse rispondere proprio alle esigenze di questo periodo cioè ci siamo detti come possiamo raccontare alla nostra comunità il periodo che stiamo vivendo lo possiamo fare dando voce proprio alla nostra comunità e ai vari punti di riferimento e quindi con questa realtà il merito è di Francesco Ventura che è un volto è diciamo una voce più o meno storica di Radio Futura a me l'hanno presentato come ciccio nei discorsi giorni come ciccio sì ciccio scatta in realtà il suo nome d'arte scatta lo salutiamo è un soprannome che è di famiglia speriamo che sia in ascolto o che ci ascolti sì è in ascolto è in ascolto ci sta ascoltando lui tra l'altro è anche diciamo un infermiere in un reparto oncologico e quindi però nonostante questo nonostante insomma anche il periodo del suo lavoro così particolare ha comunque ha deciso di continuare a diciamo alimentare quella che è la sua grande passione appunto alla radio e quindi mi ha proposto e ha proposto alla radio di mettere su questo Quarantine e quindi abbiamo creato questo format Quarantine dicendoci quando abbiamo voglia e quando abbiamo qualcosa da dire andiamo in onda utilizziamo la piattaforma StreamYard che ci permette di andare poi in diretta Facebook e di avere degli ospiti in video e parliamo quindi diamo voce alla comunità e quindi abbiamo messo su questo Quarantine e abbiamo iniziato abbiamo dato voce praticamente a tutti quindi di recente abbiamo cominciato con il parroco della cattedrale di Acquaviva per capire anche come la Chiesa diciamo sta affrontando affrontato questi due mesi e da questo tra l'altro poi è nato un altro appuntamento sulla radio ogni pomeriggio questo per capire proprio come è bello come proprio la comunità si sia completamente riadattata e reinventata quindi la cattedrale di Acquaviva ha creato adesso questo programma che si chiama con Maria nella stanza al piano superiore e quindi durante tutto il mese di maggio per esempio ogni pomeriggio alle 17 ci sono i parroci della cattedrale che incontrano le famiglie e pregano proprio ed è un bel momento di condivisione poi abbiamo molto bello poi abbiamo dato voce al mondo della scuola con le dirigenti scolastiche e quindi abbiamo cercato abbiamo avuto appunto ospiti le dirigenti scolastiche di una scuola media una scuola invece una scuola materna e di una scuola superiore per capire come si è organizzata la didattica a distanza con Cassano NER abbiamo organizzato una puntata sempre di quarantine con ospiti un dirigente medico dell'ospedale Miulli in area covid è il primo paziente guarito covid di Cassano quindi per avere anche quest'altro tipo di testimonianze abbiamo avuto per esempio abbiamo fatto una puntata dedicata al mondo del wedding quindi ascoltando i professionisti del settore per capire uno dei settori più colpiti quello del wedding degli eventi e abbiamo affrontato con loro un po' la situazione abbiamo chiesto il supporto per esempio di due psicoterapeuti e quindi abbiamo dato anche dei consigli abbiamo avuto tantissime interazioni quindi il bello di questo format è che davvero si basa anche sulle risposte che arrivano dalla comunità quindi noi siamo partiti con ovviamente delle domande abbiamo fatto il punto un po' prima di ogni puntata però poi ogni puntata è cambiata nel corso d'opera perché sono sempre arrivate delle domande quindi abbiamo fatto informazione abbiamo fatto intrattenimento ci siamo anche divertiti abbiamo fatto una puntata con due bambine per esempio perché si parla tanto di bambini però non si parla mai con i bambini e quindi abbiamo avuto queste due ospiti tra l'altro bravissime future speaker sicuramente e ci siamo divertite tantissimo insomma noi abbiamo cercato di fare questo nel nostro piccolo abbiamo voluto continuare abbiamo voluto offrire un servizio alla comunità abbiamo fatto una puntata con il sindaco per esempio per rispondere un po' a quelli che sono i tanti interrogativi da parte insomma dei cittadini è un piccolo è una piccola goccia però appunto lo dicevamo anche prima da soli non andiamo da nessuna parte non lo dico io ma lo dice qualcun altro Papa Francesco dice nessuno si salva da solo è mai come in questo momento lo stiamo lo stiamo vedendo lo stiamo vivendo quindi insomma è mai come in questo momento lo vorrei sottolineare lo dicevi prima Roberto la radio è tornata ad avere un ruolo centrale la radio è il mezzo di comunicazione più antico può sembrare il più vetusto ma in realtà non è mai stata così attuale e così moderna e quindi insomma viva le radio soprattutto gli emittenti locali hanno un ruolo importantissimo perché sono quelle che garantiscono il pluralismo dell'informazione l'intrattenimento il senso di comunità quindi andrebbero la vicinanza col territorio anche la vicinanza col territorio la promozione del territorio andrebbero supportate sicuramente di più questo questo è certo però insomma noi ce la mettiamo tutta e questo è un po' spero di aver di aver offerto un quadro abbastanza esaustivo di quello che abbiamo fatto in questi due mesi ma continueremo a fare adesso ci stiamo interrogando su come sarà la programmazione del futuro ovviamente aspettiamo che passi questo mese e aspettiamo di vedere i dati della fase 2 dopo si tornerà in studio sicuramente in maniera diversa per cui per esempio gli ospiti pensiamo che non ci saranno fisicamente in studio i programmi dove c'è una conduzione a due o tre voci sicuramente superanno qualche cambiamento diventerà un po' più complicato sì un po' più complicato pensiamo di utilizzare ancora la piattaforma StreamYard però stiamo cercando di capire come diciamo affrontare il problema musica perché la musica è importantissima è una componente importante di tutti i programmi e al momento però per le varie restrizioni di cui si parlava anche prima non c'è la possibilità di mandare dei pezzi e quindi questo è un po' diciamo limitante quindi stiamo studiando un po' questo Enzo che è il grande capo anche ci supporta ovviamente Saluto Enzo che è stato disponibilissimo in questi giorni ci siamo sentiti negli ultimi giorni io lui e Pino in maniera molto serrata tra le altre cose rubando tra lavoro e tutto il resto qualche attimo e posso confermare che è una persona di una disponibilità unica e saluto Ciccio nel frattempo Ciccio Ventura che ci ha ci ha appena scritto cioè ci ha scritto poco tempo fa e ci ha scritto ci sono un saluto a tutti voi anche Mariangela Cuscito un'altra delle voci della nostra radio giornalista di Gioia del Colle che dice a quello che stavano dicendo appunto Roberta e Pino sono d'accordissimo con voi quindi come vedete tutte quelle persone che in questo momento con grande difficoltà e devo dirlo perché non è facile stanno cercando di intrattenere la gente a casa anche perché in 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 forma un po' latente ci siamo sentiti in dovere di dover fare qualcosa in questo momento in realtà almeno questo per quanto riguarda noi ma penso che il pensiero sia condiviso sia condiviso da Cassano Neir e anche da Radio Futura ci siamo sentiti proprio in dovere di fare qualcosa per quelle anche poche persone che soprattutto agli inizi ci ascoltavano e ci supportavano appunto per il rispetto che si deve avere sempre per e quindi anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa qualche format qualcosa che potesse intrattenere la gente sono molto contento di questa collaborazione tra tra le nostre tre reti che posso dire si occupano molto bene di comunicazione adesso non voglio fare un vanto della nostra però io ho ascoltato quello che fanno su Cassano scusate su Cassano Neire anche su Radio Futura e vi posso assicurare che per quanto siano comunque situazioni locali siamo ad un livello abbastanza alto di comunicazione con tutte le difficoltà che ci sono in questo momento ragioniamo sempre da quel punto di vista e appunto di questo io volevo fare una domanda ad entrambi ve la butto lì a bruciapelo se siete d'accordo secondo voi la comunicazione in generale in questo periodo come è stata? chi vuole rispondere dei due? no ve lo spiego perché in un'altra diretta hanno fatto la stessa domanda a me e veniva da ridere anche a me in questo caso quindi chi vuole rispondere dei due? io solo rispondo così telegraficamente se mi permetterò naturalmente prego prego la comunicazione in questo periodo a livello nazionale è veramente un caos detto francamente soprattutto nella conoscenza nell'esposizione delle soluzioni che si stanno adottando solamente parlare di decreti di tante altre questioni relegate all'ambito sociale per quanto mi riguarda è un caos completo non so voi come la vorrete esprimere la vostra opinione nel senso nel senso relativo alla nostra concezione della RAI naturalmente io vi posso essere solamente invidiosi ve lo dico sinceramente di tutti e due perché voi avete una tradizione che noi non abbiamo e in effetti a noi risulta ancora più difficile fare informazione o fare comunicazione perché siamo in poche persone d'altronde abbiamo i nostri impegni lavorativi e come dire veramente sono invidiosa nel senso vanto dalla parola e realmente anche di quello che ha detto Roberta prima e anche della vostra presenza su Santeramo e Acquaviva fare comunicazione in questo momento e dire le cose così come stanno molti però non lo fanno beh io sono d'accordo con te anzi ti dirò di più e non è in questo momento in teoria la comunicazione dovrebbe essere esplicita sempre non soltanto in questo momento permettimi Roberto in questo momento serve chiarezza ancora di più gli intenti perché la gente è spaventata e quando la gente è spaventata o si rompe le scatole e fa in modo suo è quello che può succedere e questa è la cosa più pericolosa che possa accadere è benissimo io non sono come dire non sono un tecnico della comunicazione però io intendo in questa maniera a pelle quello che può avvenire in un certo senso quando la comunicazione è sbagliata o fraudolenta non voglio dire altro sì ok ok ci siamo Roberta vuoi dirmi la tua su questo sì tra l'altro io sono diciamo dottoressa in comunicazione sono giornalista scritta all'ordine quindi chi meglio di te può dirci questo vai io mi sono fatta un po' un'idea ovviamente insomma guardo con passione a tutto quello che viene comunicato come viene comunicato io vi rispondo più o meno con una citazione mi piace sempre fare citazioni le parole sono importanti diceva sempre qualcuno purtroppo credo che insomma a livello locale a livello nazionale in realtà non non si non si si è stati in grado di comunicare bene io ho fatto anche dei rimproveri agli amministratori locali perché diciamo che a un certo punto c'è stato davvero il caos cioè nel senso che era difficile capire destreggiarsi tra dpcm visto che ormai abbiamo imparato anche a familiarizzare con questi termini tecnici ordinanze regionali ordinanze locali poi il sindaco che ci faceva le dirette facebook alle 22 di domenica sera magari uno si mette anche nei panni diciamo dalla persona anziana che non ha la possibilità di accedere a facebook quindi magari non può prendere delle decisioni tramite facebook e quindi a un certo punto ma soprattutto nelle scorse settimane c'è stato veramente il caos poi c'è anche chi diciamo e qua parlo dei giornalisti invece soprattutto a livello nazionale c'è chi vuole fare lo scoop a tutti i costi e quindi anche diciamo nel racconto un po' dell'emergenza io personalmente ma io personalmente non ho gradito anche proprio dei lessici bellici cioè si parlava veramente di una guerra e quindi insomma non ho gradito diverse cose però insomma esistono gli sciacalli di professione esistono i leoni da tastiera e quindi sicuramente dovremo a un certo punto fare un'analisi credo che sia anche arrivato il momento di farlo un'analisi di quello che è stato fatto di come è stato fatto come è stato comunicato sicuramente per il futuro insomma dovremo imparare questa esperienza dovrà insegnarci tante cose per il futuro insomma sì sì sicuramente questo sicuramente è stato sbagliato molto anche partendo proprio dall'alto cioè nell'ordine io penso che in questi giorni avrei fatto ho scelto quei lavori che avrei voluto fare nella mia vita sai quando sei piccolo che dici cosa vorrei fare cosa vuoi fare da grande vorrei fare l'astronauta o cose del genere beh io sicuramente non avrei voluto fare né l'amministratore locale in questi giorni né l'amministratore regionale ancora peggio ma tantomeno non avrei voluto essere al governo presidente del consiglio diciamolo perché lavoro difficilissimo il loro naturalmente come sempre noi lo sappiamo chi fa sbaglia chi non fa non sbaglia mai naturalmente però è anche vero che anche il presidente del consiglio per esempio faceva le sue splendide conferenze stampa alle 11 la sera per poi ritrattarle dopo 20 minuti magari ecco a parte quella fissa delle 18 diciamo quindi anche dall'alto la comunicazione e non avrei voluto fare il giornalista in questi giorni perché il compito del giornalista è stato difficilissimo perché tra notizie fake notizie vere notizie vere ma non so ci sono anche quelle tra anticipazioni venute fuori cioè c'erano ministri che anticipavano quello che doveva dire il presidente quella è stata una cosa quella è stata una cosa molto grave quella che è avvenuta con uno dei primi decreti quindi eravamo i primi giorni di marzo secondo me quelli sono stati i giorni più caotici è stato molto molto grave perché poi da quella fuori da quella fuga di notizie c'è stato l'esodo che tanto ci ha spaventato poi per fortuna è rientrato però comunque parliamo di 20.000 persone che per esempio sono arrivate in Puglia proprio in seguito a quella fuga di notizia poi arrivate in Puglia per trovarsi in un'altra zona rossa però ci sono stati degli errori veramente molto molto gravi io penso che quel che non ci ha colpito in maniera gravissima così come è successo in altre zone d'Italia questo covid anche per la bravura degli amministratori locali e di chi amministra in questo momento le varie regioni del sud perché hanno saputo parare il colpo in una maniera io io se posso proprio posso portare la mia testimonianza diretta io ho avuto bisogno e non avevo risposte in un determinato momento e ho mandato un messaggio e lo confermo è vero il numero del presidente Michele Emiliano è pubblico ed è vero e lui risponde e ho mandato un messaggio e in 24 ore mi ha risolto un problema e quindi lo posso posso dirlo assolutamente vogliamo dare anche a Cesare ciò che è di Cesare certo verranno fatti e verranno fuori tanti sbagli che magari sono stati fatti però diciamo anche le cose positive che vengono fatte certo a prescindere dai partiti politici perché penso che in questo momento parlare di partiti politici sia un'emerita cavolata perché in un momento di pandemia come questo la politica secondo me dovrebbe accordarsi mettersi da parte mettere da parte no non mettersi da parte non mettere da parte la politica ma mettere da parte la campagna elettorale in questo momento la bandiera mettere da parte la bandiera ho visto ho visto in giro tanta campagna elettorale questo è il problema serio dell'Italia molti fanno cose solo per campagna elettorale e questa è una cosa che mi dispiace in questo momento di pandemia allora abbiamo parlato anche di comunicazione quest'oggi e altra cosa importante sulla comunicazione sono le fake news purtroppo queste ci sono ce le abbiamo e arrivano in continuazione adesso noi abbiamo qui una giornalista Pino mi permetti di fare questa domanda Roberta ma che sta scherzando assolutamente io sono l'ultimo arrivato per cui no figurati tu sei no in realtà non esiste un ultimo arrivato quindi come sto io ho detto di invidio per cui no figurati quello che dite mi va bene allora Roberta come ci si come tu che sei esperta quindi naturalmente anche a te arriveranno un sacco di fake news tutto il giorno e dovrai dovrai cerchi di dimenarti tra queste fake news per cercare di capire qual è poi quella reale come ci si come si può combattere questo discorso delle fake news cioè io mi arriva una notizia come faccio a sapere perché molte volte arriva con la testata che sembra quella reale del giornale importante e in realtà è una fake news anche quella perché è capitato anche che giornali importanti cadessero nelle fake news peggio degli altri quindi come faccio a capire in realtà se una notizia è una fake news o una notizia vera è bella bella domanda diciamo che di recente sono nati proprio cioè ci sono dei siti che individuano proprio le bufale in rete e quindi individuano proprio delle fake news anche perché comunque hanno delle caratteristiche più o meno peculiari comunque arrivano spesso sotto forma di catena tramite messaggio privato e quant'altro ma non solo io diciamo che ho il mio metodo cioè nel senso che io ho deciso ecco vi dico come mi sono destreggiata io in questi due mesi perché all'inizio dipendevo completamente da tutti i siti di informazione aspettavo il bollettino delle 18 con ansia ma poi ho capito che così insomma la mia salute mentale non ne giovava e quindi ho deciso di limitare sicuramente il consumo di informazione perché troppa informazione equivale a nessuna informazione quindi ho deciso di avere due tre fonti accreditate e ho deciso di informarmi di informarmi così quindi di staccare comunque soprattutto dai social io poi vabbè li utilizzo per lavoro quindi però personalmente mi sono anche distaccata un po' dai social mi sono distaccata dai programmi di approfondimento televisivi continui ma davvero cioè continui all'infinito insomma mi sono un po' disintossicata quindi sicuramente individuare due tre fonti e cercare così di affidarsi a quelle fonti magari avere un punto di riferimento un giornale un giornale cartaceo fisico un sito di approfondimento e un TG preferito e affidarsi a loro di fidare ovviamente poi anche delle catene Whatsapp e quant'altro soprattutto ripeto nelle settimane più critiche poi ci arrivavano tutti anche i messaggi della caccia all'untore tramite Whatsapp veramente delle cose delle cose disdicevoli squallide squallide adesso per fortuna quella fase lì è finita posso dire Roberta che in questo ho apprezzato adesso non so come si sono comportate le amministrazioni comunali di Cassano e di Acquaviva non lo so magari aggiornatemi voi su questo ma in questo ho apprezzato tantissimo il sindaco di Santeramo che ha fortemente combattuto anche legandolo alla legge sulla privacy questo aspetto della caccia all'untore che è una cosa tristissima perché io vi ricordo sempre ricordo tutti quelli che ci stanno ascoltando che la pandemia passerà ma i rapporti sociali dovranno rimanere quindi quello che oggi voi avete additato per un tore che sia stato non lo sia stato non è colpa sua sicuramente è colpa sua se consapevolmente esce fuori però non siete voi che ve ne dovete occupare sono le forze dell'ordine che se ne devono occupare di questo però quella persona che voi avete additato era la stessa persona con la quale magari ieri eravate andati a prendere un caffè quindi state attenti anche a questo perché voi prima di tutto la gente comune non sa non ha notizie certe su chi è malato e chi no quindi state molto attenti nel fare questo non lo fate adesso sicuramente questa questa paura dell'untore è passata sicuramente un po' dappertutto però stiamo attenti a quello che si fa perché comunque poi sono macchie che rimangono addosso a persone che magari come è successo per un caso a Santeramo sono completamente all'oscuro di tutto quello che sta accadendo e quindi ne risentono le loro famiglie e quant'altro quindi stiamo molto attenti a puntare il dito sugli altri ecco allora cara la mia Roberta anche tu hai scelto una canzone giusto? sì sì allora che canzone ci hai scelto nel frattempo io preparo tutte quelle che sono le dinamiche che devono andare per la canzone vai vai allora io ho scelto una canzone che abbiamo mandato diverse volte in radio non è recente nel senso che sarà dello scorso dello scorso anno e si chiama guarda ti dirò Roberta ti dirò neanche io e Pino siamo molto recenti però andiamo ancora di moda non eh beh giusto? Pino ci sei ancora? sì assolutamente neanche io e te siamo recenti come età però però siamo ancora di moda cioè rimaniamo ancora di moda noi vero Pino? ma sì ma sì ma sì allora Roberta dici qual è la canzone e perché hai scelta sì allora la canzone si chiama andrà tutto bene ed è una canzone di Levante che è una cantautrice che mi piace tantissimo in realtà appunto dal titolo sembra una canzone assolutamente positiva in realtà no c'ha anche delle ha delle sfaccettature ha delle sfumature è un po' come il periodo che stiamo vivendo che abbiamo vissuto ci sono state tantissime contraddizioni c'è stato un messaggio di speranza un messaggio positivo ci sono state cose che non sono andate bene cose che andranno bene e quindi insomma secondo me è una canzone che è perfettamente in linea con quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo quindi andrà tutto bene di Levante allora naturalmente noi vi ricordiamo che come diceva prima appunto la nostra Roberta per le regole su copyright non possiamo far ascoltare le canzoni su Facebook e su Youtube il silenzio che ascolterete subito dopo è per evitare che ci abbassino il volume del video intero e quindi anche perché vorremmo far ascoltare più che la nostra musica anche le nostre idee quindi che penso siano anche altrettanto importanti quanto la musica però vi inseriremo in chat un link dove potete cliccare andarvela ad ascoltare tranquillamente per i fatti vostri questa è Levante la potete comunque ascoltare sul nostro sito ma anche su sulla nostra sulle nostre applicazioni quindi questa è Levante andrà tutto bene e naturalmente noi ritorniamo subito dopo non andate via ci siamo? non andate via Grazie a tutti. 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 Io vi dico proprio nel mio piccolo come ho un'azienda, se non avessi avuto l'e-commerce a marzo e aprile sinceramente avrei fatto zero fatturato, quindi grazie a un anno fa a quella decisione di mettere sull'e-commerce. E quindi anche le radio, noi abbiamo avuto la radio. Grazie a tutti. studiare un pochettino quelle che sono le varie piattaforme e poi ovviamente puntare molto all'interazione perché ancora di più, anzi proprio grazie a queste piattaforme alla possibilità di andare in video, in audio, c'è ancora di più la possibilità di interagire con chi ci ascolta e anche quella è una parte molto importante, quindi ben venga e anzi deve essere sempre di più nel futuro. Credo che questa esperienza ci lascerà molto e ripeto anche parlando con Francesco con cui noi ci chiamiamo affetti stabili perché ci sentiamo tutti i giorni e quindi siete congiunti, siete congiunti, siamo quasi congiunti. Allora ormai è confermato, è confermato, l'affetto stabile è congiunto, quindi Sì, l'affetto stabile è congiunto e quindi con lui appunto pensiamo che anche in futuro continueremo ad utilizzare le piattaforme che abbiamo utilizzato durante questi due mesi perché ci permette di fare determinate cose, quindi ben venga questo nuovo collubio radio web assolutamente. Io concordo con Roberta, anzi io direi che la radio si dovrebbe evolvere, non dovrebbe essere solamente voce in quanto è un network, quello che stavamo ragionando l'altro giorno noi. Sì, esatto, esatto. Per quanto mi riguarda è stata la prima esperienza che abbiamo avvolto sulla nostra emittente, aver chiamato i nostri concittadini all'estero o fuori regione, è stata una cosa simpaticissima ed è stata seguitissima nel primo senso della parola. Io direi che la radio potrebbe essere lo strumento per riavvicinare la comunità di origine e cioè chi è fuori paese si sente molte volte solo. La radio potrebbe essere quel vincolo sociale che come in questo momento dove c'è stata la necessità e secondo me dovremmo essere sempre pronti ad intervenire sotto determinati punti di vista, a reagire a determinate situazioni. La radio ci ha permesso questo pronto intervento, nel primo senso della parola, perché qualcuno si è sentito anche vicino agli altri proprio in questa maniera. E' stata veramente simpatica chiamare qualcuno dalla Cina, dall'Alto Italia o dall'Inghilterra a comprendere quali erano le loro difficoltà, ma anche, guardate, non tutti viviamo alla stessa maniera. Comprendere anche quello che coloro che ci erano vicini qualche tempo fa adesso stanno vivendo un'altra realtà, ma è uno strumento soprattutto, io direi, di confronto. Io lo pongo sotto questo profilo, l'approccio alla radio, cioè un atteggiamento di rapporto con l'altro, ecco perché l'interazione, sono completamente d'accordo con Roberta che ci deve essere interazione. Se non c'è interazione a questo punto, non ha esistenza, cioè non ha la sua capacità di fare comunicazione, cioè comunicazione vuol dire che uno parla all'altro, in un certo senso. Sbaglio, Roberta. No, certo, certo, chiaro. Soprattutto è bello avere qualcosa da dire, ma è soprattutto bello quando gli altri ti rispondono e hanno qualcosa da dire anche loro. Questa è una cosa molto bella e noi dobbiamo ringraziare, io veramente devo ringraziare tutte quelle persone che in questi mesi ci stanno ascoltando e hanno piacevolmente anche risposto. Ci hanno fatto anche delle critiche giuste, doverose, perché quando ci si mette a parlare o a dire qualcosa bisogna sempre accettare anche le critiche da parte di chi ti ascolta naturalmente, anche perché quelle sono quelle che ti fanno crescere in realtà. Noi non vogliamo togliere altro tempo ai nostri ospiti, quindi vi ringraziamo, però vi chiediamo di lasciarci con un ultimo messaggio. Roberta, vuoi farlo prima tu? Un messaggio positivo magari di aiuto anche alle persone che in questo momento sono a casa ma vorrebbero in realtà essere altrove, magari al bar a prendersi un caffè con gli amici? Sì, allora sì, per quello che può valere, lo so che ce lo sentiamo ripetere da due mesi a questa parte, però se continuiamo a rispettare le regole ne usciremo presto tutti quanti. Quindi siamo ancora nella fase 2, non siamo nella fase 10, cosa che invece a volte sembra. Roberta, scusami, io direi ancora 1 e mezzo, 1 e mezzo ancora, dai, fase 2 tra qualche giorno. Ok, e quindi continuiamo a seguire le regole e a comportarci bene perché ne usciremo sicuramente e niente, cerchiamo di uscirne però come persone migliori e quindi cerchiamo anche insomma di fare tesoro di tutto quello che abbiamo imparato perché sicuramente abbiamo imparato qualcosa da questi due mesi e quindi però cerchiamo di uscirne in meglio, di uscirne fuori in meglio. Allora, caro Pino, un messaggio per tutti coloro che ci stanno ascoltando perché vi ricordo che quest'oggi siamo in onda sia sulla pagina di Radio Swing Set che su Cassano On Air che su Il Santermano naturalmente è su 6 di Santeramo 6 ma anche su Radio Futura New Generation quindi salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle altre piattaforme naturalmente. Prego, Pino. Molto semplice il mio messaggio, è come anche la canzone che mi hai fatto scegliere, il cielo è sempre più blu di Vino Gaetano. Stavo arrivando proprio a quello, mi hai anticipato. Ma in effetti era proprio quello che, come dire, il surto del mio intervento per la serie che l'analisi della contingenza, qualunque cosa succeda, qualunque azione si compia, il cielo è sempre più blu. Certo, certo, certo. Allora, tra l'altro, tra l'altro, io ne ho approfittato, caro Pino, perché tu mi hai chiesto una versione di Rino Gaetano. In realtà, negli scorsi giorni, proprio uno o due giorni fa, è stata messa online una versione fatta da una marea di cantanti italiani, tra i quali, di personaggi famosi, loro si fanno chiamare in questo momento All Stars, Italian All Stars for Life, all'interno del quale c'è, che ne so, Eros Ramazzotti, piuttosto che Fiorello, piuttosto che... E hanno fatto proprio una versione di Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Quindi, perdonami, perdonami, ma ho voluto mettere questa versione. Ti va bene lo stesso? Assolutamente sì. Anche perché pure loro, io vorrei ricordare che in questo momento, tra quelli che realmente stanno facendo la loro parte per intrattenere le persone che sono dovute rimanere a casa, ci sono stati proprio i personaggi dell'arte e dello spettacolo. Perché in realtà non si sono mai fermati, hanno prodotto video, hanno incoraggiato a stare a casa, hanno fatto opere di beneficenza, come penso hanno utilizzato il social, come penso non sia mai stato utilizzato, giusto? Assolutamente. Almeno a memoria mia, che mi dite voi? A memoria mia non è mai stata fatta una cosa del genere. Quindi anche loro ne hanno approfittato tanto. In questa canzone c'è anche Baglioni, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tanti in questa versione qua. Piero Pelù, tanti di rami anche musicali completamente diversi che si sono fusi all'interno di questa canzone, che è veramente molto bella. Andatevi a vedere anche il video. Ornella Vanoni, pian piano mi verranno in mente anche tutti quanti gli altri. Noi vi lasciamo, vi salutiamo, ringraziamo veramente Roberta Genghi di Radio Futura New Generation. Ringraziamo anche Pino Greco di Cassano On Air e Gianni Di Filippo di Il Santermano, che è stato uno dei gruppi che hanno collaborato anche con noi. Vi lasciamo con quest'ultima canzone, ma il cielo è sempre più blu, degli Italian All Stars for Life, una cover di... non mi ricordo più di chi è la cover, però non fa niente. Va bene, lo stesso. Noi vi lasciamo con questa canzone, vi diamo l'appuntamento a mercoledì. Mercoledì si parlerà, come sempre, di arte con il regista Sergio, aspettate un attimo che non mi ricordo il nome, con il regista Sergio Orecchia. Sergio Orecchia, molto importante, scusatemi se ogni tanto mi perdo nei nomi. Si parlerà anche di animazione insieme ad Alessio Pinto e ad un ospite che ha lanciato una sua iniziativa opinabile, diciamo, perché poi va vista anche dagli addetti al settore, naturalmente, se è fattibile o no. L'appuntamento è alle ore 17.30, mercoledì, con Fai la tua parte. Grazie a tutti, grazie a tutti i nostri ospiti che nel frattempo sono caduti, meno male, abbiamo fatto giusto in tempo, abbiamo fatto. Grazie a tutti, grazie a Radio Futura New Generation, grazie a Cassano Neir, ci vediamo, ci sentiamo, appunto, questa bella canzone e subito dopo ciao ciao a tutti quanti. Grazie, appuntamento a mercoledì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.